Un biglietto unico per il trasporto regionale, una comodità per lavoratori e pendolari ha soprattutto un bel risparmio. E' la proposta di legge regionale avanzata dal consigliere Vibratiano della regione Abruzzo, Dino Pepe, un progetto illustrato nella sede del Partito Democratico di Teramo. Ho presentato una risoluzione in consiglio regionale, speriamo venga approvata in commissione e poi in consiglio per quanto riguarda la promozione del biglietto unico anche per quanto riguarda la provincia di Teramo. Questo biglietto unico ovviamente aiuterebbe i cittadini, utenti, ma soprattutto i lavoratori, soprattutto gli studenti e faciliterebbe i servizi verso le aree interne. Dal 2004 è uno strumento a disposizione dell'area metropolitana Chieti-Pescara e per questa ragione vorremmo che si istituisse anche in provincia di Teramo per ridurre i costi e fare in modo che con un unico biglietto, un unico titolo di viaggio, si può viaggiare su tutti i vettori della nostra provincia. Treni, bus, integrati, urbani, suburbani, tutto integrato attraverso una convenzione con Regione Abruzzo che ovviamente deve sostenere questo progetto. Sono biglietti a tempo, esempio in 90 minuti si può viaggiare su tutta la provincia, su tutti i vettori della nostra provincia. Ovviamente faciliterebbe il trasporto pubblico locale, ma anche la riduzione dei costi dei titoli di viaggio e soprattutto un vantaggio importante di servizio verso le aree interne. Grazie. 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 Grazie.